Una puntata da non perdere. Questa sera alle 21.10 a Sud TV, canale 663 del Digitale Terrestre, ospiti della trasmissione settimanale Fatti e Dintorni condotta dalla giornalista Rosalia Sica saranno il presidente di Confindustria Provinciale, Andrea Prete, il presidente di Coldiretti Provinciale, Vito Busillo, e Pietro Ciotti dell'Associazione Battipagliese Storie Futuro.